ancora una volta ciao ragazzi io sono diego e oggi ritorniamo su radio brutto lui questo è il secondo blog del canale e nello scorso episodio di radio brutto lui vi ho anticipato gli orari che saranno la mattina alle 8 e mezza mezzogiorno vabbè poi ce la vedo in quel video la mezzogiorno poi se non mi sbaglio le due e mezza sei e mezza beh comunque ce l'avete in quel video la e in tutti i radio brutto lui noi diremo dall'inizio alla fine solo cazzate per divertirci allora per quanto riguarda gli haters non ce ne sono ancora stati e spero non ce ne saranno allora se voi lasciate un bel pollice in su mi piace l'apprezzerei moltissimo che mi aiutereste e chi lascia un commentino avrà una bella giornata speciale poi dopo sto video c'è il video che ho registrato che ho registrato la cinque giorni fa che il secondo episodio del mondo sospetto è uscito oggi circa ora sulle 20 51 è uscito per le 20 e 47 45 minuti fa dal dopo questo radio brutto lui uscirà un altro video che sarà anna il gioco il primo episodio lo ricordate no che proveremo la difficoltà media proveremo di nuovo in facile ve lo anticipo così siete già pronti non vi devo spiegare nel video che comunque ve lo spiegherò questo come nel primo ho detto che se dicevano solo cazzate dall'inizio alla fine e niente scusate se si diventa buio ogni tipo vabbè ogni tot di minuti di secondi comunque scrive consigliatemi nei commenti cosa fare nel mondo sospetto perchè sto killer io lo chiamo perchè ci sono gli scheletri l'avete visto no vediamo poi ultra vanilla il prossimo episodio uscirà che l'ho registrato tre giorni fa e uscirà quando è che uscirà venerdì domani uscirà ok e domani sempre happy wheels ok e sempre dopo un po più tardi uscirà un video che registrato una settimana fa e si chiama epic 3 ed è un gioco un giochino così però almeno un gioco ragazzi io vi ringrazio per esserci stati vi consiglio di lasciare un bel mi piace per aiutarmi lo apprezzerei molto e lasciate per chi lascia un commentivo una buona giornata speciale ciao ragazzi